E' l'enghirmo assessore del comune di Rivarolo, ancora una volta lo sport protagonista, ancora una volta il karate, il re in bukan che si prepara per l'ennesimo importante appuntamento, quest'anno i mondiali a Gyor in Ungheria. Allora, naturalmente anche in questa occasione Rivarolo che travalica i nostri confini e diventa una città a livello internazionale. Assolutamente sì, siamo veramente onorati, oltre che fortunati, di poter vantare di ospitare in casa una squadra eccezionale per cui si organizza sempre questo appuntamento pre-partenza che sia di buon auspicio. Fino adesso ha funzionato, quindi auguriamoci che sia di nuovo così e quindi sì, direi che ci permettono davvero di viaggiare. I ragazzi della Re in bukan, la società di Re in bukan in questi anni effettivamente ha fatto in modo che Rivarolo diventasse sempre più importante e si facesse conoscere. Quanto al di là di quello che possa essere l'appuntamento col karate, è fondamentale per una cittadina come la vostra avere palcoscenici di questo tipo? È veramente fondamentale perché ci permette di essere noti e di essere un nome, di essere conosciuti. La partecipazione della nostra squadra ai mondiali porta con sé poi tutta una serie di altre iniziative come stage regionali, momenti che abbiamo anche organizzato ad esempio nel nostro parco del Castello Malgrà che non solo sono dei momenti su misura per i nostri ragazzi e le attività della nostra associazione ma ci permettono anche di invitare ospiti dell'intero Piemonte se non della Lombardia. Tra l'altro abbiamo anche Giulia in squadra con due ragazze da Milano e di conseguenza questo ci permette di creare anche delle reti da consolidare sempre di più. Faccio l'avvocato del diavolo. Quando un giorno potremmo dire Rivarolo, città mondiale e chissà portare un evento di quel genere anche qua in Canavese? Perché no? Allora in realtà proprio la settimana scorsa dicevo ma un mondiale, un europeo qui visto che siamo così rinomati. È chiaro che sempre il tema degli spazi è importante, fondamentale per poter ospitare delle gare di rilievo e respiro internazionale ma ci proveremo. Quindi non ti do un quando ma almeno un'intenzione. Il karate è ancora protagonista, Renbucan Rivarolo nuovamente protagonista anch'esso perché torna a essere a livello internazionale una delle società che vestirà l'azzurro e porterà l'Italia all'appuntamento in Ungheria del 25 e 27 di agosto dove ci saranno i mondiali. Siamo con Giacomo Buffo, la guida della Renbucan. Giacomo, allora come vi state preparando a questo ennesimo appuntamento di altissimo livello? Ma gli allenamenti li stiamo proseguendo grazie comunque al contributo del comune che è riuscito a farci avere una palestra e riusciamo ad allenarci con i ragazzi. Solo comunque col gruppo che va ai mondiali almeno così si riesce a lavorare in tranquillità e nello specifico. Le prospettive se devo dirtelo le vedo abbastanza buone perché ho visto le squadre, le squadre di Qatar sono preparate sia maschile che femminile. Nel combattimento, nell'individuale che la possiamo giocare secondo me. L'appuntamento di questa sera è l'occasione per presentare i ragazzi che difenderanno i colori del canavese in Ungheria. Quanto è importante che la vostra società continui a far crescere i giovani del territorio perché il karate è una disciplina che crea e fa crescere sia sotto il punto di vista umano ma anche sportivo? È importantissimo soprattutto perché per far crescere i ragazzi ci va tantissimo tempo e poi bisogna poi dare spazio comunque alle squadre, diciamo così, ai veterani uscenti. I veterani uscenti per modo di dire perché hanno sui 30 anni, avranno poi sui 30 anni il prossimo mondiale, i prossimi europei. Dare la possibilità se si riesce di creare un humus, cioè praticamente un vivaio di gente competitiva che possa prendere il loro posto. Giacomo, prima abbiamo pungolato l'assessore allo sport dicendo, Rivarolo grazie a voi, ormai si è fatta conoscere in tutto il mondo tramite il karate. Chissà quando porteremo un evento internazionale anche a Rivarolo in canavese. Ci stai lavorando? Questo è un bel sogno. Adesso senza parlare di internazionali e di mondiali perché effettivamente siamo un po' piccolini per gestire un evento simile. Calcoliamo che adesso, dalle ultime informazioni che si hanno fino a tre settimane fa, c'erano 67 nazioni iscritte in Ungheria. Però ho una bella prospettiva per il prossimo anno, visto che io faccio 50 anni di karate, la palestra Rembukam ne fa 52, però cercheremo di agglomerare tutte e due le cose. Riuscire a fare una bella gara internazionale, se fosse possibile, ad altissimo livello, almeno con otto nazioni o dodici. Siamo con il maestro Mario Bessolo, punto di riferimento non solo per il canavese, ma ormai a livello regionale e anche nazionale e internazionale, visto le esperienze per ciò che riguarda il karate. Allora, appuntamento fondamentale, importantissimo quello in Ungheria. Quali prospettive hanno i ragazzi della nostra nazionale? Allora, i ragazzi sono preparatissimi grazie al lavoro che è stato svolto. Sono due anni che lavorano duramente, quindi sicuramente sono preparati. Bisognerà vedere come sono gli altri. Diciamo che il livello nostro è molto alto e ci siamo sempre qualificati, siamo sempre arrivati sul podio. E io credo che quest'anno ripeteremo la cosa. Penso proprio di sì. Poi grazie all'insegnamento del nostro grande maestro Soci Miura abbiamo un karate di alto livello, insomma. Maestro Bessolo, in questi anni Rivarolo, ma non solo Rivarolo, il canavese in generale ha dimostrato di essere una fucina di campioni. Questo significa che dietro il grande lavoro che avete fatto in questi anni sta portando dei risultati eccellenti. Sì, sono anni. Per ottenere questi risultati c'è un lavoro immenso dietro. In effetti non si improvvisa niente. Poi c'è una buona risposta di atleti, di ragazzi che hanno capito che per ottenere dei risultati bisogna faticare. E soprattutto sono ragazzi uniti, insomma, che lavorano col sorriso sulle labbra, hanno voglia proprio di impegnarsi per riuscire a migliorare sempre loro stessi. Infatti vedono l'agonismo come un miglioramento di loro stessi, più che un confronto con gli altri. E' un agonismo verso l'individuo e gli risultati si vedono, logicamente. Questa famiglia Rembucano, ormai la possiamo definire tale, è cresciuta tanto. Visto da fuori, quali sono le prospettive di questi ragazzi? Se vogliamo sbilanciarci, naturalmente tocchiamo ferro, ma se vogliamo sbilanciarci, quali prospettive hanno questi ragazzi in misteri mondiali? Ma io credo che delle medaglie le prenderemo. Puoi dire se sono medaglie d'oro, d'argento o di bronzo, è difficile dirlo prima. Però una cosa è certa, bella figura la faremo, questo sì. E poi questi ragazzi hanno capito che non hanno solo dei diritti, hanno anche dei doveri. E questa è la cosa fondamentale. Per ottenere dei risultati bisogna faticare, impegnarci. Tante volte anche loro non hanno voglia di allenarsi, ma lo fanno perché hanno il senso della disciplina. La disciplina ti permette di allenarti anche quando non vorresti, perché a volte non è sempre facile, è faticoso. Grazie.